Il nodo delle vedove mi ha modificato il nodo degli orfani vedove orfani infido buco esatto si entra così in retro e mentre qualcuno sta cercando di profanare questo buco immondo un altro se la gode in pigiama io e mi è ha No, nel senso, tu volevi portare 20 litri di Houtan. E' stato alto lui e si incastrò.